Per un atleta, le alte prestazioni richiedono la massima disciplina e concentrazione. Tuttavia, garantire al corpo la giusta nutrizione per mantenere la forma ottimale può essere difficile. Ognuno è diverso e risponde alla nutrizione in modo unico. Come dare allora al corpo ciò di cui ha veramente bisogno per ottimizzare la nutrizione e ottenere risultati più veloci ed efficaci? Sal Wellbeing offre l'ultima ricerca rivoluzionaria nell'epigenetica e nella tecnologia tedesca, il report nutrizionale Optimize Training Elite. Questo report fornisce un maggior numero di informazioni su come realizzare un piano nutrizionale basato sulle specifiche necessità individuali. Il piano include nove aree chiave per ottimizzare le prestazioni, inclusi indicatori di resistenza e allenamento, integratori e alimenti da evitare e raccomandazioni sulla dieta per aumentare le prestazioni complessive. Questa guida completa sarà il punto di partenza del viaggio verso la crescita esponenziale e la perfetta forma atletica, incentivando il fisico a ottenere ancora di più. Per maggiori informazioni e per iniziare ad usare il report, visita il sito www.salwellbeing.com Grazie a tutti!